Nuova ondata di calore sulle regioni adriatiche della penisola. Si fanno sentire gli effetti dell'anticiclone proveniente dal Nord Africa. Dopo una breve pausa con qualche acquazzone, l'AFA tornerà con temperature roventi per tutta la settimana fino oltre i 30 gradi. Ne risentiranno di queste condizioni climatiche non solo le persone, anziani e bambini, le categorie a rischio disidratazione, ma soprattutto le campagne arse dalla calura e dalla siccità che si protrae ormai da oltre un mese a soffrire particolarmente la sete e i prodotti ortofrutticoli di stagione. L'ondata di caldo, chiamata Acheronte, che nominerà la presa sul Mediterraneo per diversi altri giorni, porterà con sé una umidità maggiore che farà percepire i valori oltre la media. L'allerta degli esperti è scattata pure in Molise con criticità medio-alta di livello 2, soprattutto sul versante Isernia-Venafro. Occasionali temporali faranno abbastanza le temperature solo momentaneamente. Qualche segnale di cedimento dell'anticiclone potrebbe verificarsi nei giorni attorno al ferragosto, ma le medie del periodo sono confermate in questa stagione estiva oltre quelle degli anni scorsi.